Salve a tutti i popoli in sport e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sul canale uscirà un nuovo video, questo e un altro, però sarà una programmazione un po' particolare perché innanzitutto mi sto preparando, come potete vedere anche dai fogli iscritti, una programmazione, essendo che siamo in quarantena e quant'altro, una programmazione per settembre e stavo approfondendo alcuni argomenti. Ormai voi lo sapete che vado con le programmazioni molto lunghe perché vabbè che ho visto i video precedenti, lo sa, sono stato fuori, sono rientrato, poi non so dove sarò, eccetera eccetera. In questo periodo di quarantena non so che fare sinceramente e ho detto quasi quasi approfitto e cerco di spiegare meglio alcuni argomenti che sul canale non sono stati molto chiari o comunque non sono stati mai affrontati. E riguardando il video che uscirà a questo venerdì comunque, ho detto ci sono delle cose che non sono molto chiari. Innanzitutto il video che uscirà sul canale parla degli aminoacili e mi rendo conto che ci sono delle cose che si contraddicono da soli. Per esempio dico che gli 811 non li prenderei però ce li ho. Nel video io ho gli 811 per un semplice motivo, perché mi sono senti regalati però io quel dosaggio di 811 per quanto riguarda il BCA non lo prendo di solito. Di solito prendo i 211 classici oppure i 411. Oppure se ho bisogno di un po' più di leucina, semplicemente mi compro la leucina a parte. Noi nella nostra città come in tutte le altre, spero in tutte le altre città d'Italia o comunque in una buona parte delle città d'Italia, ci sono dei centri, comunque dei negozi che vendono integratori e quindi oppure vabbè su internet ormai si comprano facilmente e quindi compro solo quella se proprio mi serve soltanto un po' più di leucina. E questa è la prima risposta. Leucinesi o leucina sono la base di molte proteine. Sì, infatti affrontando questi approfondimenti che sto preparando appunto per il video di settembre, volevo spiegare meglio questo fatto, vabbè, come tutti i determinati sono proteinogenici, cioè praticamente vanno a creare proteine, però una cosa interessante è che questi tre componenti con anche altri componenti che poi affronderò nei video sono proprio mirati comunque a quello scopo. Aiutano alla rigenerazione muscolare come anche le altre e comunque aiutano tantissimo alla formazione di nuove catene di proteine. Ma la cosa più interessante è che la leucina e come anche altre, perché io parlo proprio della leucina in quel video, come anche altri aminoacidi, aiutano alla secrezione di insulina, infatti vedono le chiamate alcune volte anche insulinogeniche. Non è che uno prende di insulina, però tramite dei processi chimici aiutano praticamente a, se c'erano il nostro corpo, a produrre più insulina e di conseguenza un trasporto migliore di carpe trattamente all'interno del nostro corpo delle cellule. Ok? Erano semplicemente questi gli appunti, ragazzi, il video, non so se questo video lo farò uscire prima o dopo il video di venerdì, quindi, ripeto, molto probabilmente dopo quel video, mi piaceva, perché fa parte di una serie di video, andatevi, beccatemi insomma, andatevi a guardare tutti, usciranno uno una settimana e quindi mi dispiaceva togliere quello e farlo diverso, anche perché dopo quel video ho affrontato un'operazione al ginocchio, ho affrontato la laurea, ho affrontato un trasferimento in Germania, quindi semplicemente non mi andava di toglierlo e rifarlo da capo, anche perché comunque le cose le dico, ma non in maniera eccessivamente approfondita. Quindi, ragazzi, prendetelo per com'è questo video, purtroppo questa programmazione, cioè di questa programmazione, di questo argomento è andato un po' così, gli altri cercherò di affrontarli nel momento più clou, nel modo più specifico possibile. Purtroppo il momento in cui ho registrato quel video era un periodo molto importante della mia vita, ero un po' sotto stress, però sapevo che c'era il canale, non lo volevo abbandonare e quindi, insomma, ho detto, vabbè, registro. Purtroppo è venuto un po' così, però va bene lo stesso, ragazzi. Io vi lascio un buon allenamento da InSport. Ciao!